benvenuti in questo nuovo video sono simone.zero e oggi voglio parlare di un cambio di canale perché devo dirvi non faccio un video da un mesetto perché mi sto guardando alcune vacanze estive comunque devo dirti che adesso il mio canale non si chiama più simone.zero ma adesso e d'ora in poi finché non cambierò il nome ancora il nome si chiamerà the amazing world of simo che sarebbe lo straordinario mondo di gamble sarebbe lo straordinario mondo di simo perché ragazzi gamble mi piace da morire quindi ho deciso di inserire questo nome al posto aspetta sto pensando dire scusate beh allora quindi mi piace da morire sto cartone allora l'ho chiamato così questo questo canale allora noi ci vediamo al prossimo video che farò che farò dopo allora annuncio annuncio devo dire che oggi stesso andrò a comprare dragon ball fighters allora promessa è una promessa io lo compro ci gioco un po io gioco tutta la storia poi la seconda storia la faccio faccio il video voi se siete d'accordo scrivetelo nei commenti dicendo hashtag si o hashtag no decidete così vedremo se lo sul canale lo porto no perché io non so se vi piace comunque devo dirvi anche che dovete dirmi quali giochi volete perché magari mi risparmi un po di soldi e così non ci compro i giochi che volete magari magari non lo so comunque ragazzi ditemelo scrivete nei commenti ok e ragazzi se arriviamo c'è ragazzi se arriviamo a 100 iscritti farò uno speciale però uno speciale diviso in parti ok e quindi ci vediamo al prossimo video bella ragazzi